Amore, hai già deciso cosa regalarmi per il quindicesimo anniversario di matrimonio? Sì, sì. Ho pensato che ti porto in Egitto. Wow! Eh, lo so che ti piaceva, ci tenevi tanto da andarci. Eh sì. Ma dimmi un po', hai già deciso anche per il venticinquesimo? Sì, sì. Ti vengo a riprendere.